Primo passo verso la privatizzazione di Royal Mail, la maggioranza del capitale delle poste britanniche sarà quotata in borsa nelle prossime settimane. Saranno le condizioni di mercato a decidere la quantità di azioni in vendita. Il governo Cameron ha lanciato dunque la maggiore privatizzazione dei tempi della British Rail negli anni 90 e ha assicurato che il 10% della partecipazione di maggioranza sarà distribuito a titolo gratuito ai dipendenti di Royal Mail. Secondo gli analisti il valore in borsa sarà di oltre 2,4 miliardi di euro. Grazie.